Ciao a tutti amici e benvenuti in questo nuovo canale, io sono Saraia e come avete capito ho aperto un nuovo canale praticamente il mio primo canale e faremo dei video bellissimi, cosa vi posso dire? Beh, cominciamo a... non posso cominciare, io sto solo descrivendo, faremo le challenge e lei sta facendo la pasta, faremo le challenge, prenderemo un giro da posti, spero che questa descrizione vi abbiate capito